Non solo l'assassino o gli assassini, a distanza di due anni non ha un volto neppure la persona che, di notte, le minacciava con un coltello, pretendendo rapporti sessuali gratis. Si parla di Alina Ripa e Mariana Zegares, le due prostitute rumene uccise tra il 2015 e il 2016 nella zona industriale di Salerno. Il GUP del Tribunale salernitano De Luca ha infatti scagionato il 37enne di Montoro, imputato per violenza sessuale aggravata e violenza privata. Secondo le testimonianze raccolte dalla procura salernitana, il giovane, a bordo della sua Alfa 146 di colore nero, si era reso responsabile di almeno tre episodi di violenza sessuale. In un caso, una delle prostitute, minacciata con un coltello, si sarebbe lanciata dall'auto in corsa per sfuggire alla guzzino. Una tesi, però, smontata dall'avvocato difensore dell'imputato finito in manette nel dicembre dello scorso anno. Il 37enne è stato condannato a quattro anni per un altro episodio, la violenza sessuale, ai danni di una prostituta 62enne, ma non delle due malcapitate che sono tornate nell'est Europa in una bara. Per l'imputato, che era rinchiuso nel carcere di Vallo della Lucania, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari presso la sua abitazione alla frazione di Banzano. In ogni caso, il legale ha annunciato ricorso per far cadere anche questa accusa. Resta nel salernitano il mistero su chi abbia ucciso Alina e Mariana. Le attività di indagine condotte da Procura e Forza dell'Ordine finora non sono riuscite a stringere il cerchio sul responsabile del duplice omicidio. L'assassino è ancora là fuori per il terrore di chi esercita il mestiere più antico del mondo nella zona industriale di Salerno.